ciao a tutti in questo video vi farò vedere il tanto nominato coinbase pro questa video guida è per chi ha già guardato tutti i video precedenti ed ha già provato a trasferire i primi soldi su coinbase ora che avete capito le basi del mondo cripto siete pronti a fare il passo successivo che si chiama appunto coinbase pro quali sono i vantaggi di utilizzare la versione professional primo le commissioni di acquisto sono molto più basse secondo puoi mettere ordini con prezzo limite terzo puoi impostare lo stop loss quarto avrai accesso a grafici avanzati quinto ma non per importanza coinbase pro è gratuito completamente gratis importante su coinbase pro puoi comprare tantissime criptovalute come bitcoin ethereum cartano solana e via dicendo partiamo quindi su come passare alla versione coinbase pro farlo è semplicissimo ti passerà andare al link https 2 punti slash slash pro punto coinbase punto com qui dovrà inserire lo stesso username e password che usi per coinbase tradizionale dopo aver effettuato il login avrai accesso alla nuova grafica della versione pro come vedi è diversa da quella standard perché offre molte più funzionalità soprattutto è più difficile da leggere ed è in inglese questo però non ti deve scoraggiare perché il sistema di coinbase pro non solo è superiore a livello di funzionalità ma soprattutto costa molto di meno in termini di commissioni e quando si fanno gli acquisti quindi assolutissimamente bisogna utilizzare coinbase pro invece di coinbase tradizionale importante se guardi il tuo profilo in alto al sinistra scoprirai che è vuoto la prima volta che ti colleghi a la versione pro di coinbase questo perché le tue criptovalute ed i tuoi euro sono rimasti su coinbase tradizionale dovrai quindi effettuare il trasferimento in questo modo andremo a cliccare su portfolio dove ci verrà mostrato il nostro portfolio questo portfolio di esempio ipotizziamo quindi di volere fare un deposito trasferendo i soldi che abbiamo su coinbase tradizionale in quello pro partiamo per esempio dagli euro se io scrivo euro scoprirò che in realtà coinbase.com mi dà la possibilità vedete di dire trasferisci più fondi istantaneamente da coinbase.com ad coinbase pro ciao